Bentornati a tutti. Oggi è venerdì, 21 aprile, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo acquario. Venerdì di luna storta. Luna storta, è il caso di dirlo, in quanto è in quadratura. Non subito, però, durante la notte, mentre voi dormivate e sognavate, la bianca signora ha sposato il sole per un pelo in ariete. Ma poi entrambi, prima lei, poi lui, hanno varcato i confini del toro, segno col quale voi dell'acquario non avete una grande empatia e lì hanno raggiunto Mercurio e Urano, già mal disposti nei vostri confronti e soprattutto in quelli del vostro inquilino Plutone, anche lui trasformista, ma solo su tempi lunghi e in profondità, da fuori non trapela niente, ma interiormente è una vera rivoluzione. Gli effetti cominciano a farsi sentire subito, ma la loro portata si farà più forte e intelligibile solo col tempo, man mano che acquisterà forza, con effetti macroscopici sulla casa e la famiglia, ma ahimè anche sulle vostre finanze, già ridotte da Saturno e dalle vostre intemperanze a lumicino. L'amore tende a consolidarsi con il contributo di entrambi i partner ma in specie al modo di uno. Tutto si dispone per una novità importante e decisiva che potrebbe sovvenire improvvisamente, fidanzamento, convivenza, matrimonio, ma anche un nuovo modo di affrontare tutti i problemi e qualcuno in particolare. Oggi cercate di preferire una sana passeggiata a piedi, andando al lavoro non prendete l'auto. Vi accorgerete di un mondo che vi passa accanto senza che voi ve ne accorgiate. Delle amicizie sui social network oggi potrebbero deludervi particolarmente darvi la sensazione di essere amicizie molto interessate. In fondo potreste sempre decidere di togliere via le amicizie inutili. Per i nati di venerdì mattina tra le 9 e le 12 questo è un giorno decisivo, alcune scelte, apparentemente difficili, saranno quelle che vi daranno una nuova carica e un nuovo modo di affrontare i problemi. Per gli altri la fase nuova sarà soltanto più lenta. Agire sempre con prudenza soprattutto se avete un'attività professionale o commerciale, non lanciativi in progetti complicati che potrebbero essere resi impossibili dalle condizioni economiche. Cambiate atteggiamento con il vostro partner finché siete in tempo. I singli invece dovranno stare attenti alle nuove amicizie, non tutte potrebbero rivelarsi giuste. Oggi potreste andare indietro nel tempo con la mente, i ricordi di vecchi amori riaffiorano e vi rendono particolarmente lunatici. E non è detto che non possiate per caso reincontrare qualcuno di questi. Rifiutate qualche approccio poco elegante che avete ricevuto recentemente sui social, fate in modo da recuperare una parte della vostra vita reale. Avete solo una vita da vivere, fatelo fino in fondo. La giornata vi scorrerà in modo assolutamente veloce e piacevole grazie alla congiuntura astrale positiva. Serata all'insegna della passione sfrenata con il vostro amore. Anche se Giove sta favorendo la vostra personale situazione economica, un Mercurio non certo favorevole consiglia di non avventurarsi in spese eccessive e di salvaguardare il rapporto con tutti. Anche se le cose non sembreranno andare per il verso giusto in questa giornata, cercate di non dimenticare mai di sorridere. Non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. State tralasciando delle amicizie, non crediate di poterle interrompere e riprendere a vostro piacimento. Sono in vista tensioni in amore. Si apre un nuovo giorno per voi molto vivace che vi vede in una ritrovata forma psicofisica, specie se appartenete alla seconda decade dell'acquario. La novità del momento è la mutata posizione del sole che si trova da oggi nel segno nemico, amatissimo del toro. Non chiedete troppo al vostro fisico e ogni tanto riposatevi, non è detto dobbiate dare prova del vostro valore proprio oggi. Saranno questo giorno di fine aprile particolarmente buoni i rapporti con il clan degli amici d'infanzia, i compagni di scuola, quelli di vecchia data. La vostra forza è l'inquilino plutone magnetico, istrionico e trasformista. Sarà lui a darvi una mano nonostante il voltafaccia del sole e della luna che stanotte dopo essersi abbracciato nel segno amico dell'Ariete, dove transita anche Giove, si sono catapultati in toro. Qui invece stazionano Urano e Mercurio, tutti in posizione sfavorevole. Amore ed Eros. Malumore in famiglia, ma la causa dipende essenzialmente da voi, il vostro caratterino non è malleabile, spendete come Nababbi, in cucina fate disastri, sorvolate le pulizie di casa e poi ve la pigliate con i vostri cari. Gelosia oltre il livello di guardia, proprio sicuri di essere dell'acquario? Potreste incontrare qualcuno di molto interessanti anche attraverso un social. Per voi che state vivendo un periodo di diffidenza, questa sarebbe una vera novità. Tutto che è i rapporti in famiglia. Un Giove benevolo in serata vi ricongiunge con speciale passione e desiderio alla vostra dolce metà, specie se siete nati nella terza decade. E Plutone, vostro nome tutelare, in congiunzione nel vostro segno, rinfocola e rassoda potentemente le pulsioni erotiche, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 21 gennaio al 3 di febbraio. Lavoro e denaro? In concludenti sia a casa, sia in proprio, di idee ne avete moltissime, tutte splendide e interessanti ma ahimè anche costose e di questi tempi di soldi da investire proprio non ce n'è. Sorpresa culinaria andata letteralmente in fumo, con i fornelli oggi siete proprio uno sfascio. In questi giorni potreste guadagnare abbastanza per soddisfare le vostre ed altrui esigenze, in particolar modo quelle della vostra famiglia e dei vostri figli. Si raddoppiano le vostre energie lavorative con un sole appena entrato nell'infaticabile toro che vi obbliga a essere costantemente efficienti e attivi, anche se non sempre lo volete e specie se siete nati nella prima decade. Ne avete un assaggio con gli impegni che riuscite a portare a termine adesso. Benessere. La fatica digestiva dipende dalla masticazione, urge una seduta dal dentista per fare il punto della situazione. Probabilmente vi toccherà sborsare e qui arriva il babau, ma il sorriso è troppo importante per dimenticarsene, soprattutto per tipi sociali come voi che amano stare in pubblico. Stop alla caffeina e agli alcolici, in questo periodo vi siete concessi troppi strappi alla regola. Disciplina anche nell'alimentazione oltre che nell'esercizio fisico. Per lei, amate la storia, ma è proprio grazie a questo grande amore che state prendendo le distanze dall'attualità, vivendo ostinatamente nel passato, almeno qualche millennio fa, o nel futuro, qualche secolo più avanti. Impossibile farvi cambiare idea, il presente vi deludeci respirate male, come un pesce fuor d'acqua. Per lui, voglia di abbellire casa, ristrutturarla e renderla sostenibile. Tutto questo sulla carta, ma una volta interpellato un esperto e visto il conto finale vi passa la voglia. Meglio lasciarla così com'è per non contrarre i debiti per i prossimi vent'anni. Colore delle emozioni, marron glasè. Barometro dell'umore, temporalesco. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 4, finanze, 5, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.